Ciao ragazzi, sono Emanuela Genoni, io sono Mauro Cardani, siamo gli insegnanti che apriranno la lezione nella zona olistica di Cosmo Yoga il giorno delle 20 e il 7 maggio. Quindi vi volevamo invitare perché terremo questa lezione particolare dove faremo delle posizioni di yoga, oltretutto sarà una lezione molto particolare perché stimoleremo molto le energie. Quindi Mauro, vi aspettiamo numerosi al Fitness Show!